Le situazioni sono di una situazione insperata e quindi gioiosa, non possiamo non essere contenti di tutto quello che è successo. Passando per i pre-off poi c'è stata tutta una serie di gare e competizioni che ci hanno permesso di vincere e di arrivare fino in fondo con soddisfazione ma anche con merito, penso. Sicuramente la questione pubblico ci ha tolto le soddisfazioni più grandi perché comunque giocare col pubblico era tutta un'altra cosa, purtroppo non si poteva e quindi abbiamo dovuto accontentarci di come si è potuta concludere la stagione. Per quanto riguarda il Covid ci ha tolto sicuramente un altro obiettivo che era di nostro interesse, quello della Coppa Italia. A un certo punto abbiamo dovuto rinunciare alla semifinale per motivi di Covid e abbiamo preso forse la decisione più giusta, quella di rinunciare alla semifinale per non incombere in situazioni, non dico drammatiche ma comunque pericolose. Abbiamo fatto la scelta giusta, ahimè, e non abbiamo continuato la corsa verso la Coppa Italia. Una squadra che ha alle sue spalle una società importante, un'azienda importante la sua, la Megabox, anche in un anno, quello del 2020, inizio 2021 così particolare. Ora la Serie 1 che l'anno scorso un po' era tra i più grandi sogni che è diventato realtà, come si affronterà anche una nuova stagione così bella? Innanzitutto ci dobbiamo ancora organizzare per la 1 perché comunque è vero sì che era un sogno, il nostro attagguardo da arrivarci, ma teniamo conto anche che ci siamo arrivati nel primo tentativo, quindi ancora non avevamo proprio tutto programmato e tutto organizzato. Dovremmo accelerare tutto il percorso per far sì che sin da quest'anno riusciamo a mettere in piano una strategia che ci permette di consolidare la società e anche mettere in campo una squadra che possa stare in campo in A1, non dico di eccellenza, però una squadra che possa competere per salvarsi e questo è l'obiettivo primario per la stagione prossima. Non si può che ringraziare tutta la squadra partendo dalle giocatrici che hanno meritato questo successo, ma anche allo staff, agli allenatori, a tutta la società che c'è dietro perché comunque in campo noi vediamo sì ragazze, ma dietro ci sono sicuramente tante persone che ci lavorano dalla segreteria all'amministrazione, ai ragazzi che comunque tengono in funzione il campo, e poi da non sottovalutare gli sponsor che ci hanno permesso di affrontare questo primo campionato, chiamiamolo primo campionato di categoria, di serie A, e quindi dobbiamo ringraziare anche gli sponsor. Speriamo di averli con noi anche nella prossima stagione, anche magari in forma diversa da quella della stagione passata, con magari anche qualcuno in più.